E onorevoli deputati, desidero in primo luogo ringraziare il Presidente Fico, ma anche tutti i gruppi parlamentari per la disponibilità ad anticipare da mercoledì ad oggi le comunicazioni del Governo sull'evoluzione epidemiologica e sulle eventuali nuove misure da adottare. La richiesta da mia avanzata di intervenire oggi in Parlamento segue peraltro una mia precedente interlocuzione con i Presidenti delle Camere, ai quali avevo chiesto sin dalla giornata di venerdì scorso di esplorare la possibilità di individuare gli strumenti, le modalità più adatte per assicurare un'interlocuzione costante durante la gestione della pandemia in modo da poter garantire un confronto anche immediato in occasione dell'elaborazione dei nuovi provvedimenti del Governo. L'interlocuzione con il Parlamento e il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche qui rappresentate costituiscono passaggi fondamentali e per questo ho ritenuto di dover rimettere ai Presidenti dei due rami del Parlamento ogni decisione circa gli strumenti suscettibili di realizzare questo obiettivo rispetto alle decisioni che il Governo è chiamato ad assumere con la massima speditezza a fronte di una costante evoluzione, anche molto repentina, del quadro epidemiologico. Già sabato, dopo questa interlocuzione tuttavia, la lettura del report settimanale di monitoraggio sull'evoluzione del quadro pandemico curato all'Istituto Superiore di Sanità ha costretto a prefigurare un nuovo corpus di misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre, data che ricorderete era stata fissata alle rispettive conferenze di Capigruppo per le mie comunicazioni al Parlamento. In ragione di queste sopravenute venienze, all'esito di un'ulteriore interlocuzione con il Presidente Fico, che ringrazio, e anche con la Presidente Casellati, che ringrazierò tra qualche ora, ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni, affinché il Parlamento possa esprimersi prima dell'adozione di un ulteriore provvedimento. Ascolterò quindi con la massima attenzione io e i componenti del Governo le diverse posizioni che emergeranno dal dibattito e preannuncio sin d'ora la mia disponibilità ad accogliere i rilievi, le osservazioni contenute nelle risoluzioni che saranno approvate questa mattina alla Camera e questo pomeriggio, questa sera al Senato. Peraltro ho prospettato ai leader dell'opposizione, delle forze di opposizione, la possibilità di costituire un tavolo di confronto con il Governo, utili ad assicurare alle forze di opposizione stesse una piena e costante informazione sull'evoluzione della pandemia in modo da offrire l'opportunità di veicolare e rappresentare più direttamente, più puntualmente, istanze e proposte. Al momento questa proposta, è cosa anche nota, è stata rifiutata. Se ci fossero però ripensamenti, posso confermare sin d'ora che la proposta del Governo permane in mutata e rassicuro anche che la proposta non sottende una confusione di ruoli, né tantomeno mira una sovrapposizione di responsabilità. Il Governo è sempre stato, sempre rimarrà ben consapevole delle sue piene responsabilità di fronte al Paese rispetto a ogni decisione che ha assunto e che assumerà per mettere in salvezza la nazione. Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare particolarmente critico. La pandemia corre inesorabilmente e impetuosamente in tutto il continente, costringendo ciascun Paese a individuare e adottare misure progressivamente più restrittive che, nel tentativo di rispondere tempestivamente e proporzionalmente alla crescita della curva epidemiologica, si susseguono di settimana in settimana. L'Europa, all'interno di un quadro globale, complesso, preoccupante, è certamente in questo momento una delle aree più colpite in assoluto dall'urto della seconda ondata. Secondo l'affidabile Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nelle ultime due settimane la maggior parte dei Paesi europei ha fatto registrare un incremento dei casi di Covid-19 superiore ai 150 contagi per ogni 100.000 abitanti. In Paesi come la Spagna, la Francia e il Regno Unito il numero dei casi registrati sin dall'inizio dell'epidemia ha superato il milione. Anche, peraltro, nel nostro Paese la situazione epidemiologica è in ulteriore peggioramento. Come è noto, i dati relativi alla pandemia vengono raccolti, analizzati ogni giorno da strutture di monitoraggio diffuse su tutto il territorio e poi due volte alla settimana. Prima una volta, adesso abbiamo chiesto di farlo anche con un intervallo infrasettimanale. C'è una cabina di regione alla quale sono rappresentati l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute e anche le regioni che elaborano un report. Purtroppo nelle ultime settimane la recrudescenza della pandemia ha condotto a una moltiplicazione significativa dei contagi. Questi però sono meno della metà di quelli rilevati in Francia, circa la metà di quelli spagnoli, poco meno della metà di quelli del Regno Unito. In questi Paesi infatti la ripresa dell'epidemia è iniziata prima e sta correndo di più. In ogni caso, al monitoraggio effettuato nella settimana dal 19 al 25 ottobre risulta che il numero di nuovi casi segnalato è quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente. Quindi ragioniamo di 100.446 casi rispetto ai 52.960. A ieri, quindi parliamo di domenica 1 novembre, in Italia si registravano in totale 378.129 contagiati e il 94%, 357.288 risulta in isolamento domiciliare. Mentre al picco della prima ondata si curava in casa solo il 51,8 dei contagiati, oggi solo il 5%, cioè 18.962 persone sono ricoverate con sintomi in ospedale contro il 41,5% al picco della prima ondata. Mentre solo lo 0,5%, parliamo di 1.939 persone, risulta ricoverata in terapia intensiva contro il 6,7%. Gli italiani contagiati quindi sono di numero ben più elevato, anche se la gravità dei contagi appare diversa e inferiore rispetto alla prima ondata. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre al 65% delle persone sono infatti asintomatiche o, come si suol dire, pausi sintomatiche con lievi sintomi. E fino al 95% delle persone presentano appunto sintomi lievi. A ieri, domenica, primo novembre, risultavano ricoverati in terapia intensiva 1.939 persone, con il risultato di occupare il 21% dei posti letto già disponibili, nel totale di 1.052 posti, e il 18% di quelli che si otterranno anche con l'ulteriore distribuzione da parte del Commissario Arcuri di nuove attrezzature, per un totale di 10.841. I pazienti in terapia intensiva al momento sono poco più della metà dei posti letto attivati grazie alle forniture incrementali fornite appunto dal Governo tramite il Commissario straordinario. Ricordo infatti che all'inizio dell'emergenza gli ospedali italiani disponevano di 5.179 posti letto in terapia intensiva. Durante questi mesi abbiamo distribuito 3.370 nuovi posti, nuovi ventilatori. I posti letto attivati o attivabili ad oggi quindi sono 9.052, più 75%. Il Commissario Arcuri ha altresì a disposizione ancora 1.789 ventilatori che verranno distribuiti nei prossimi giorni in funzione dell'andamento della curva dei contagi che porteranno i posti letto in terapia intensiva a 10.841, quindi con un più 109% rispetto all'inizio dell'emergenza. Occorre rilevare che l'aumento dei contagi è anche il risultato di una cresciuta capacità di screening. Negli ultimi giorni vengono effettuati in media, come avete visto, 200.000 tamponi al giorno. Abbiamo toccato anche punte di 215.000 negli ultimi giorni. Quando a marzo, ricordo, ne venivano somministrati 25.000, circa otto volte di meno. In Italia, sino ad oggi, sono stati effettuati poco meno di 16 milioni di tamponi. Sono stati testati poco meno di 10 milioni di cittadini. Di questi tamponi 12,7 milioni, cioè l'80%, sono stati distribuiti alle regioni gratuitamente. Questi dati li riassumo perché confermano e ci fanno capire che c'è una rilevante differenza rispetto alla prima ondata. Oggi abbiamo una cresciuta capacità di risposta in termini di dotazioni. Parliamo di dispositivi di protezione, attrezzature medicali, che vengono distribuite peraltro in una molteplicità crescente di categoria. Ospedali, RSA, forze dell'ordine, trasporto pubblico locale, servizi pubblici essenziali, scuole. Consideriamo inoltre che mentre all'inizio dell'emergenza nel nostro Paese era sprovvisto di dotazioni, oggi in larga parte può considerarsi può considerarsi e questo è un risultato autosufficiente. Sino ad oggi sono stati distribuiti 1,6 miliardi di prodotti vari e l'Italia, questo continuo a sottolinearlo perché credo sia un vanto per tutti, è uno dei pochi Paesi al mondo nel quale ogni giorno vengono distribuite gratuitamente 11 milioni di mascherine chirurgiche a ciascuno studente, a ciascun membro della comunità scolastica. In conclusione, in questo momento non stiamo subendo una insostenibile pressione, se ricordate i numeri che vi ho sintetizzato, una insostenibile pressione nei reparti di terapia intensiva. Piuttosto registriamo un crescente preoccupante affollamento nei restanti reparti, alcune strutture ospedaliere in particolare, con particolare riguardo alle terapie subintensive e all'area medica in generale. A questo riguardo è stata messa in campo negli ultimi giorni una dupliciazione. La scorsa settimana, ne ho dato conto anche qui in quest'Aula, è stato sottoscritto un accordo cosiddetto stralcio con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta per consentire loro di somministrare ai propri assistiti test rapidi antigenici, permettendo così di curare il più possibile i pazienti presso i loro domicili, in modo da alleggerire le pressioni sui ricoveri e il ricorso ai pronti soccorsi. Il Commissario Arcuri ha già acquistato 10 milioni di test rapidi che da questa settimana, per il tramite delle regioni, verranno distribuiti alle ASL e ai medici di medicina generale e che saranno utilizzati anche rispetto a specifiche destinazioni, quali anzitutto la scuola, in modo da poter ridurre le quarantene. Con questa fornitura le regioni potranno somministrare sino a 100 mila test rapidi al giorno. È stata inoltre avviata un'ulteriore richiesta di offerta per tamponi molecolari a reagenti di estazione e amplificazione, che condurrà alla somministrazione di 250 mila tamponi molecolari classici al giorno. In sostanza, sarà possibile far crescere ulteriormente la capacità di screening della popolazione italiana, che mentre, lo ricordo, all'inizio dell'emergenza non superava i 25 mila tamponi al giorno, oggi si è attestata stabilmente sui 200 mila, ma sulla base di questi dati che vi ho dato da ultimo potrà arrivare, già dai prossimi giorni confidiamo, sino a 350 mila test al giorno. In caso di scenario particolarmente avverso il raccordo con il Ministro della Difesa, che ringrazio, potremo disporre di ulteriori mezzi e personale medico-militare, in parte già attualmente operativo. Potremo disporre e involgere di pochi giorni di 453 medici, 867 infermieri militari, inoltre il personale sanitario-militare, attualmente impiegato anche nei drive-thru della difesa su tutto il territorio nazionale e abbiamo un Covid Hospital, lo ricordo, al Cielo, a Roma e Covid Hospital a Milano, a Taranto. Siamo anche in condizione di intervenire con quattro strutture da campo dell'esercito, ove necessario, impiegabili con un preavviso a partire da 72 ore in giù. Nonostante gli sforzi posti in essere per rafforzare il nostro sistema sanitario, l'evoluzione dell'epidemia, soprattutto con riferimento ai dati delle ultime settimane e degli ultimi giorni, risulta molto preoccupante. Secondo i parametri stabiliti da quel documento di cui vi ho già parlato, prevenzione e risposta a Covid-19, evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale, redatto dall'Istituto Superiore della Sanità e dal Ministero della Salute, condiviso in sede di conferenza delle regioni con la collaborazione di varie università e centri di ricerca, il quadro epidemiologico descritto è in via di transizione verso uno scenario di tipo 4, con particolare riferimento ad alcune regioni che già nel breve periodo accusano il rischio di tenuta dei servizi sanitari. Si conferma, pertanto, quel quadro epidemiologico a cui ho già fatto scenno complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, con specifiche criticità in molte regioni e province autonome. Nell'ultima settimana di monitoraggio, 11 regioni e province autonome sono classificati a rischio elevato o anche molto elevato di una trasmissione non controllata di SARS-CoV-2, altre otto regioni e province autonome sono classificati a rischio moderato, con una probabilità elevata di progredire poi a rischio alto nel prossimo mese. L'aumento rapido dell'incidenza è coerente con l'aumento dell'RT nazionale, che attualmente si colloca a 1,7, con un indice inferiore ma comunque prossimo all'1,5 in poche regioni. In alcune regioni, invece, ovviamente il dato risulta superiore alla media nazionale. Nella settimana di riferimento per la prima volta è stato segnalato il superamento della soglia critica di occupazione in aree mediche ed esiste un'alta probabilità che 15 regioni superino le soglie individuate come critiche di terapia intensiva e di aree mediche nel prossimo mese. Nel prossimo conto, per la precisione, degli effetti conseguenti all'adozione delle misure restrittive introdotte in particolare con l'ultimo DPCM, quello del 24 ottobre, che ricorderete ha introdotto misure più severe e conseguentemente non tiene conto del loro impatto sulla curva di crescita. Questi effetti possono verificarsi, come ci suggeriscono gli esperti, e possono essere quindi constatati solo a partire dal quattordicesimo in poi dell'adozione delle misure. Sebbene gli effetti saranno positivi, così dobbiamo assolutamente presagire, così ci viene confermato da tutti gli esperti e scienziati, però in questo momento non vi sono evidenze scientifiche che ci consentano di prognosticare la misura di questo impatto che ovviamente può essere anche previsto come positivo. Per conseguenza, alla luce dell'ultimo report che è stato elaborato venerdì scorso ed è stato anche diffuso, illustrato in una conferenza stampa, ed è la situazione da esso certificata, che risulta diffusamente grave sul territorio nazionale e particolarmente critica in alcune regioni, siamo costretti a intervenire in un'ottica di prudenza e massima precauzione per attuare ulteriori misure e per seguire una più stringente strategia contenitiva e mitigativa del contagio. Questa strategia va necessariamente modulata in base alle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in considerazione della più elevata circolazione del virus e del più elevato rischio di tenuta dei servizi sanitari. Riteniamo necessario, pertanto, assumere una decisione orientata ai principi di proporzionalità e adeguatezza che contempli nuovi interventi restrittivi, modulati e differenziati sulla base del livello di rischio concretamente rilevato nei territori. Sulla base di criteri scientifici, attenzione, criteri scientifici predefiniti, oggettivi, lo ripeto, elaborati all'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e da vari centri universitari di ricerca, sarà quindi necessario introdurre un regime differenziato basato sui diversi scenari regionali. Permettetemi qualche ulteriore chiarimento sul punto, perché questo passaggio va ben chiarito, ovviamente non solo a voi ma anche all'intero Paese. In Italia è stato elaborato questo sistema di monitoraggio nel corso di questi ultimi mesi, che oggi ci pone nella condizione, una condizione anche diversa rispetto ad altri Paesi, anche del continente europeo che non lo possiedono, e di cambiare quindi strategia rispetto alla prima fase, quando invasi da un nemico sconosciuto e invisibile siamo stati costretti a proteggerci all'interno delle nostre case, lo ricordiamo tutti, sospendendo anche interiormente la nostra vita lavorativa e di relazione. A marzo, posti di fronte a un evento travolgente in assenza di un piano operativo puntualmente e dettagliatamente certificato sul piano scientifico, sprovvisti di un sistema di monitoraggio così sofisticato, sul quale quindi basare ogni valutazione prodromica all'aduzione delle misure, abbiamo emanato provvedimenti per lo più generali e uniformi su tutto il territorio nazionale, che benché attraverso passaggi intermedi ci hanno condotto a un lockdown generalizzato. Abbiamo pur sempre operato in base al principio di massima precauzione, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità, ma ripeto e lo ricordo senza poter disporre di un piano operativo elaborato, di un monitoraggio accurato, di cui invece adesso disponiamo. Oggi disponiamo di una struttura di prevenzione, di monitoraggio che non si limita solo a misurare il tasso di contagiosità sui territori. Attenzione, quindi non è solo questione di prendere atto e riferire l'RT, il famoso RT, ma è un piano che elabora il flusso dei dati provenienti dal territorio sulla base di 21 differenti parametri, di cui ricordo i più significativi. Numero di casi sintomatici notificati per mese, numero dei casi costoria di ricovero ospedaliero, numero di strutture residenziali sociosanitarie che riscontrano almeno una criticità settimanale, percentuale di tamponi positivi, tempo medio tra data di inizio dei sintomi e data di diagnosi, indice di replicabilità, numero di nuovi focolai di trasmissione e non ultimo ovviamente per importanza occupazione di posti letto, di area medico terapia intensiva sulla base dell'effettiva disponibilità della singola struttura ospedaliera del singolo territorio. È un sistema quindi molto articolato. Questo sistema oggi ci impone, non ci lascia liberi, ci impone di intervenire in modo più mirato, di restringere e allentare le misure su base territoriale in ragione delle variazioni della soglia di criticità. L'effetto sarà quello di intervenire a più riprese in maniera più graduale, quindi non ci dobbiamo meravigliare del fatto che si possano usare restrizioni e allentamenti a secondo della soglia di criticità, articolate e flessibili rispetto alla prima fase. Grazie a un monitoraggio più accurato, strutturato, esemplato sui parametri indicati da questo piano che abbiamo predisposto dagli enti che abbiamo richiamato. Se invece al cospetto di un sistema così avanzato, predisposto con tale cura anche scientifica, riproponessimo oggi un regime restrittivo, indistinto, indifferenziato su tutto il territorio nazionale, otterremo il duplice risultato negativo. Da una parte rischieremo di non adottare misure realmente adeguate e efficaci rispetto al reale stato di criticità delle regioni attualmente più a rischio e dall'alto finiremo per imporre misure irragionalmente restrittive in quelle aree del Paese, ove al momento non risulta necessario intervenire con particolare severità. A tal fine, in coerenza con quanto prevede il piano a cui ho fatto riferimento, il prossimo DPCM individuerà tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive. L'inserimento di una regione all'interno di una delle tre aree, con la conseguente automatica applicazione delle misure previste per quella specifica fascia, avverrà con ordinanza del Ministro della Salute e dipenderà esclusivamente e oggettivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione. All'essereo della combinazione di diversi parametri, quale è certificato dal report ufficiale dell'Istituto Superiore della Sanità che viene diffuso periodicamente. Sempre con ordinanza del Ministro della Salute sarà possibile poi uscire da un'area a rischio ed entrare in un'altra, qualora la regione registri coefficienti compatibili con il passaggio di fascia. Per l'intero territorio nazionale, dove non si segnalano livelli di rischio elevato, intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare quel piano di contenimento, l'obiettivo di contenimento e la mitigazione del contagio che già stiamo perseguendo con i tre di PCM, in particolare con l'ultimo. Pensiamo di disporre la chiusura nei giorni festivi, stiamo parlando quindi del territorio nazionale, pensiamo di disporre la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, negozi di genere alimentare, tabacchi ed edicole che sono all'interno di questi centri commerciali, ovviamente in ragione della maggiore attrattività che questi spazi suscitano in particolare nel weekend. In coerenza con la chiusura delle sale gioco, delle sale bingo, intendiamo disporre anche la chiusura dei corner adibiti ad attività di scommesse, i videogiochi ovunque siano collocati. Chiuderanno anche musei e mostre, prevediamo anche la riduzione fino al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali. Infine prevediamo di introdurre limiti agli spostamenti da e verso le regioni che presentano elevati coefficienti di rischio, salvo che non vi siano comprovate esigenze lavorative, motivi di studio o di salute, situazioni di necessità. Prevediamo anche limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda, salvo che anche in questo caso le medesime eccezioni delle comprovate esigenze lavorative, dei motivi di studio di salute, delle situazioni di necessità. Prevediamo infine la possibilità che le scuole secondarie di secondo grado possano passare anche integralmente, in questo caso alla didattica a distanza, sperando che questa sia una misura ben temporanea. Quanto agli altri due regimi di misure di contenimento e mitigazione da applicare per le regioni che sono in una condizione di rischio più elevato, prevediamo di introdurre ulteriori disposizioni restrittive, graduandole di intensità e severità in proporzione al coefficiente di rischio. Nel momento in cui sono entrato in quest'Aula, credo che fosse ancora in corso la conferenza con le regioni, sono state ascoltate ieri, anche da questa mattina, ovviamente terremo conto non solo delle risoluzioni che verranno qui votate, ma anche delle istanze che verranno poste al tavolo della conferenza con le regioni. In questo snodo così critico della sfida europea e globale contro il virus, il principio ispiratore della nostra azione resta lo stesso. La priorità, oggi come in primavera, è la difesa della vita umana e della salute, che costituisce una precondizione per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionalmente garantiti. Siamo consapevoli della frustrazione, del senso di smarrimento, della stanchezza dei cittadini e anche della rabbia che si sta manifestando in queste giornate. I cittadini che si trovano a convivere con nuove limitazioni anche alle proprie libertà personali. E siamo anche coscienti delle profonde ripercussioni che le restrizioni avranno inevitabilmente sull'attività economica, sulla produzione e sui redditi. Tuttavia vorrei ribadire a questo proposito che non vi può essere alcun dilemma tra la protezione della salute individuale e collettiva e la difesa della nostra economia. Tanto più saremo efficaci nel piegare la curva dei contagi, tanto più velocemente potremo allentare le restrizioni oggi necessarie, evitando così un deterioramento insostenibile del nostro tessuto economico e sociale. Peraltro nel riprova l'ottima performance economica che i Paesi europei hanno mostrato nel terzo trimestre di quest'anno, dopo aver domato a partire da giugno la crescita del contagio. In questo quadro l'Italia, lo ricordo, ha registrato una crescita del PIL pari a 16,1% nel terzo trimestre, ben al di sopra delle aspettative, superando persino la crescita del PIL nella media dell'Eurozona a pari al 12,7%. Questi ovviamente sono numeri macroeconomici, non ci dicono nulla della sofferenza economica, del grave disagio sociale avvertito da ampie fasce della popolazione. Però è un risultato complessivamente straordinario che dobbiamo alle nostre imprese, ai lavoratori, anche alla grande disciplina mostrata dai cittadini, a cui va nuovamente tutta la nostra gratitudine per i sacrifici compiuti. Il Governo non intende arretrare di un millimetro rispetto al proposito di garantire la più ampia protezione economica possibile ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie italiane. La complessità della situazione che stiamo vivendo ci impone di fornire tutto il sostegno necessario per tutto il tempo necessario e nella misura in cui sarà necessario. Tutti gli ulteriori sforzi finanziari che dovremo compiere costituiscono, lo voglio dire chiaramente, elementi di stabilità, di certezza e di sicurezza per il mondo del lavoro che appaiono oggi assolutamente irrinunciabili. E con questo spirito, peraltro, che abbiamo varato la scorsa settimana il decreto legge Ristori, all'esito di un confronto con le parti sociali e che abbiamo deciso di estendere fino alla fine di marzo del prossimo anno il blocco dei licenziamenti, garantendo al contempo che la cassa integrazione cosiddetta Covid sia gratuita per i datori di lavoro interessati dalle misure restrittive e per coloro che subiscono più in generale il blocco dei licenziamenti. Anche a fronte di queste ulteriori limitazioni, d'accordo con il Ministro Gualtieri e con il Ministro Patonelli, stiamo già lavorando per compiere e realizzare e perseguire ogni azione utile per ristorare e sostenere i settori colpiti e per questo appunto cercheremo di concretizzare queste erogazioni in termini di ristori e indennità al più presto. Si dice spesso che ogni crisi è un'opportunità di cambiamento e di trasformazione. Quella che stiamo vivendo è ormai la terza crisi nello spazio degli ultimi 15 anni e stavolta l'Italia, l'Europa, l'Occidente hanno la possibilità di imprimere una vera svolta che al contrario è mancata dopo i precedenti episodi di crisi. L'Europa ha saputo cogliere questa sfida in particolare attraverso il programma Next Generation EU e attraverso varie altre iniziative a cui l'Italia ha fornito un contributo determinante e per il quale è necessario un nuovo patto tra pubblico e privato nonché una nuova strategia di organizzazione della presenza pubblica nell'economia che non ostacoli il mercato ma sappia intervenire e indirizzarlo in questo momento di particolari crisi. Nei mesi a venire quindi sarà il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza ad offrire una nuova prospettiva di modernizzazione del Paese nel solco dei grandi obiettivi strategici dell'Unione Europea. Anche in un momento così drammatico in cui tutti siamo pressati dall'urgenza di provvedere e ci sentiamo immersi nella gestione del quotidiano non possiamo permetterci di distogliere lo sguardo verso il futuro. Non conosciamo ancora il volto dell'Italia che verrà ma sappiamo con certezza che le trasformazioni in atto lo cambieranno profondamente. Il compito della politica di tutti noi sarà guidare e accompagnare questa transizione. nessuno può sentirsi esonerato da questa sfida di portata storica. E ancora una volta mi permetto di rivolgere un invito a tutte le forze, a tutte le energie del Paese. Restiamo uniti, restiamo uniti in questo drammatico momento. A dispetto delle diverse idee, convinzioni, in nome dell'unità, dei valori che sono a fondamento della nostra convivenza, del nostro quadro costituzionale. Grazie. 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 Grazie.